I due conduttori si confermano la coppia più amata dal pubblico di Zelig, per via di una sintonia e una leggerezza che continua a trasmettere il buon umore senza mai cadere nell'eccesso o nella monotonia. Ecco perché non sarà semplice dir loro, arrivederci, ancora una volta. La coppia che più mancherà o il pubblico di Zelig dopo questa quarta e ultima puntata su Canale 5 è senz'altro quella formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nonostante l'affetto per i nuovi e vecchi comici, che hanno salutato con un caloroso, arrivederci la platea dell'Arcimboldi, la coppia più amata del programma si conferma quella dei due conduttori che, a 25 anni dalla nascita dello show in tv, continuano a non stancare. Continuano a provocarsi come un tempo, senza scadere mai nel volgare o nell'eccesso. Sarà che la risata di Vanessa Incontrada è contagiosa, che il suo modo di stare sul palco è sempre accompagnato da una certa dose di leggerezza o sarà che Bisio sappia trovare con lei il trovare il giusto equilibrio di complicità. Fatto sta che la conduttrice spagnola non delude mai ed è amatissima dal pubblico proprio per la sua semplicità e freschezza, che non ha perso negli anni. Tanto da potersi permettere battute come Mi sudano i baffi, o Mi sto pisciando addosso, senza mai scadere nel volgare. Sarà anche che gli sketch dei due comici lasciano sempre il beneficio del dubbio che possa trattarsi di una naturalissima improvvisata. Uno dei momenti più comici della quarta serata è il botta e risposta tra i due conduttori sul palco che inizia quando Bisio stuzzica elle collega chiedendole se per caso sappia il nome del suo cameraman, quello che le offre il primo piano. Vanessa non lo sa e così Bisio ne approfitta non solo per dimostrarle di sapere i nomi di entrambi gli operatori che offrono loro i primi piani sul palco, ma anche per rimarcare la sua impreparazione, non sai mai un K asterisco asterisco o, la prende in giro. Lei non riesce a smettere di ridere e spiega, rido perché sei uno str asterisco asterisco o, ecco perché non sarà semplice dir loro, arrivederci ancora una volta. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.